Mio padre, il grande Giambattista Tiepolo, era celebre in tutta Europa. Villa Valmarana in Anni, lì è scoppiata una ventata di novità. Sì, sì, ma se non sbaglio, lei ha decorato la foresteria e suo padre le stanze padronali della vita, la sala è più importante. Però vede, in quella foresteria io mi sono sentito libero. Sì, ma parliamo di Madrid? Madrid. Madrid è stato un periodo particolare, sì. Per la verità, non molto entusiasmante. Pulcinella, che personaggio affascinante. Io sono Pulcinella, urisinea. Voi credete di sapere chi sono io? Eh, no? Io sono nato da un uovo. Ma lei non ha ancora capito che i Pulcinella siamo tutti noi? Io sono Pulcinella. 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 Pulcinella.